Sono stati 977 gli uomini ricoverati per i tumori maligni dal 2013 al 2022 sul territorio comunale di Sulmona, mentre le donne, 928, a snocciolare dati sulla salute della popolazione e l'Istituto Superiore della Sanità che consegna al sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero la prima fotografia sull'incidenza dei tumori in città. Un approfondimento che il primo cittadino aveva chiesto per i miasmi della discarica cogesa dopo il monitoraggio della qualità dell'aria effettuato dall'Arta. I ricoveri nella zona della discarica sono superiori alla media, i decessi per tumore in linea. Emergono dati contrastanti, come aveva spiegato ieri Di Piero, in aula consigliare, numeri e considerazioni che comunque fanno riflettere sul territorio di Sulmona dal 2012 al 2021 il numero dei decessi è in linea con la media regionale, in eccesso invece il numero delle persone ricoverate per tumori maligni, soprattutto tra le donne per alcune specifiche patologie, tumore alla mammella, malattia del moto neurone. Superiore alla media per entrambi i generi il melanoma dell'acuta, le malattie ischemiche del cuore, l'infarto miocardico. Nello specifico, come detto, sono stati 977 gli uomini ricoverati per i tumori maligni dal 2013 al 2022, mentre le donne 928. Tra il genere maschile, il dato più alto riguarda il tumore della prostata, 185 ricoverati, mentre in quello femminile il tumore della mammella, 300. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, per valutare l'impatto sanitario della discarica, sono necessari studi ad hoc basati su dati individuali o di piccola area. Inoltre, l'Istituto raccomanda una valutazione di fattibilità, di analisi dei dati del registro tumori della regione Abruzzo per un periodo di osservazione. Ho subito contattato ASLE Regione Arta per i dovuti approfondimenti, annunciato di Piero in consiglio, pronta ad illustrare le prime risultanze dello studio anche in città.